Supportare l'attività di diagnostica per immagini come radiografie, ecografie, tacche e risonanze magnetiche a favore degli atleti olimpici attraverso l'attivazione di una collaborazione fra la società scientifica e il CONI per favorire la formazione e la preparazione dei medici nell'affrontare i traumi sportivi. È questo l'obiettivo del primo progetto fra la Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica, SIRM, e il CONI che porterà ad un accordo quadro di cooperazione operativo in vista di Milano-Cortina 2026. È stato annunciato nella prima giornata di The Next Generation il 51esimo congresso nazionale SIRM in svolgimento al Mico di Milano fino a domenica 23 giugno e primo congresso congiunto dell'area radiologica che riunisce per la prima volta circa 8.000 specialisti delle tre società scientifiche, medici radiologi, medici nucleari e radioterapisti. Ci sembra importante come società scientifica dare tutto il nostro sopporto a un progetto molto ampio di educazione dei medici sportivi, dei fisiatri, dei ortopedici, di tutti coloro che stanno già lavorando intorno al mondo dello sport da un punto di vista medico ma che trovano nella radiologia un partner fondamentale. Oggi gran parte delle patologie sport correlate passano attraverso una diagnosi radiologica che è sempre più precisa, sempre più focalizzata alle specificità delle lesioni sportive. Gli italiani sono poco sportivi, solo il 26% infatti pratica sport, ecco perché è importante favorire la cultura allo sport ed essere di supporto. In questo il radiologo ha un ruolo centrale insieme ai clinici. Per favorire la cultura allo sport bisogna essere anche di aiuto verso queste persone con conoscendo non solo la patologia e in questo ci aiutano i clinici e noi radiologi apprendiamo tantissimo da loro perché capiamo quali sono le risposte da dare meglio dal punto di vista diagnostico, le risposte per una diagnosi precoce, per curare al meglio ma anche le risposte per una terapia riabilitativa più efficace e questo è importante. Nell'ambito di questo progetto noi contribuiamo comunque a diffondere quella che è la cultura dello sport ma anche dell'attività fisica che fa parte della prevenzione primaria e degli stili sani di vita. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 saranno diffuse su un'area di oltre 22 mila chilometri quadrati, per questo quindi molto innovative, quattro territori con sei villaggi olimpici e un asset nuovo anche nell'ambito del medical service. Mettere insieme quattro regioni che devono essere coordinate a livello nazionale e bisogna trovare quindi un firouge per ottimizzare quelli che sono i servizi medici. Stiamo parlando delle migliori regioni a livello nazionale con dei sistemi avanzatissimi e quindi la contaminazione del sapere medico sarà un ottimo modo per dare una contaminazione anche alle altre regioni che parteciperanno tutte quante al successo dei giochi.